Ciao, mi chiamo Nicola Gennari e sono uno storyteller. Mi piace girare in lungo e in largo con la mia videocamera per raccontare le storie delle persone. Il lavoro mi ha portato a girare tutta Italia permettendomi di mettere in aso un po' dappertutto, dalla piccola bottega artigianale alla grande multinazionale. Amo girare video storytelling perché credo che le storie siano dei legami unici con cui possiamo connetterci gli uni agli altri. Volti, mani, sguardi, dettagli, parole. Lo faccio da tanti anni, mettendoci fatica e impegno per migliorare ogni volta, per restituire pienezza alle storie che incontro.